intervista time ciao imprenditori sono molto felice di essere qui con marco montemagno la superstar digital ciao marco benvenuto su imprendo academy la scuola online per gli imprenditori smart poi ciao ti ringrazio per la superstar mi definisco come si definisce tim ferris un dilettante professionista questa secondo me è la giusta definizione va bene senti marco nel video prequel dell'intervista volevo diventare proprio come te montemagno anche se ognuno deve diventare il superman di se stesso ci racconti in breve quali sono stati gli step che hai affrontato per diventare il marco montemagno che da 12 mila like è passato 300 mila guarda io di mister faccio l'imprenditore lavoro nel mondo tech da tanti anni e quando ho iniziato a fare video arrivavo da 15 anni di esperienza tra televisione radio eventi aziende startup di tutto di più nel mondo tech per cui ho iniziato diciamo con un'esperienza grossa dietro le spalle dal punto di vista della tecnologia del digital e della comunicazione in realtà quando ho iniziato a fare video online per un anno non li ha mai guardati nessuno e li caricavo su youtube e nessuno se li filava anzi devo ancora rimuovere un po di video vecchi perché sono uno peggioro dell'altro e poi dopo un annetto più o meno quando ero ormai alla frutta ho detto beh mi sa che nessuno li vuol vedere sti video un giorno andando in cucina dalla mia dolce metà ho detto guarda smetto di far sti video perché tanto non se li fila nessuno insomma e lei mi ha segnalato che era uscito facebook video quindi la possibilità di caricare nativamente i video su facebook e lì dal primo video che ho cominciato a caricare ovviamente l'ho ascoltata e quindi il mio consiglio numero uno è ascoltare sempre la tua dolce metà perché probabilmente ha ragione questo è una consiglia importante anche se tu ti ritieni in qualche modo competente nel settore e di lì è esploso tutto ecco onestamente è stata una crescita dal primo giorno una cosa che ho imparato negli anni quando lanci tanti progetti e molti non funzionano e qualcuno ogni tanto funziona è che quando un progetto funziona di qualunque tipo lo vedi subito è come quando carichi un video online vedi immediatamente se prende piede oppure no e per cui da quel momento devo dire è stata una crescita esponenziale adesso esplosa anche sto libro che nessuno si aspettava diventasse il numero uno in italia ecco ecco senti marco non è stato affatto facile intervistarti ho dovuto fare i salti mortali ma nella tua carriera però ha intervistato gente del calibro di oliver stone jeff bezos come si ottiene un'intervista da un personaggio famoso quando non si è conosciuto e non si vale un cacchio via parlando guarda allora ci sono varie tipologie la mia carriera premesso che io sono un pessimo intervistatore almeno mi ritengo un pessimo intervistatore però avendo fatto sette anni una trasmissione in tv e moderando tanti eventi inevitabilmente intervisti tanta gente ci sono due categorie di in cui uno può rientrare se hai un media alle spalle o se sei da solo se hai un media alle spalle è facile perché tu sei ti presenti come sky o come radio o come immaginati il corriere repubblica ed è facile avere un'intervista si tratta solo di schedulare ed è fatta la cosa difficile farlo quando come dici tu non sei nessuno e parti da zero allora ti do la mia esperienza quando mi sono trasferito qui in inghilterra perché in italia diciamo è abbastanza facile se devo essere sincero oggi come oggi nel senso ho già la mia credibilità ai miei contatti è facile no onestamente all'estero invece quando sono arrivato qua in inghilterra ovviamente non conoscevo nessuno e un giorno ho pensato di fare una roba che avevo chiamato digital domination summit avevo deciso di fare come come stai facendo tu delle interviste via skype in remoto con 30 dei principali esperti del business del digital al mondo una notte mi ricordo mi alzo e sempre con la mia dolce metà che la mia usa ispiratrice mentor è il mio vero mentor insieme a mio figlio iari specializzato invece sui video per la parte dei video lui la cosa incredibile che mi alzo una notte dico guarda guarda ho questa idea fantastica intervisto online 30 dei maggiori esperti al mondo di business digitale e già fantastica quest'idea ma conosci già qualcuno no nessuno zero nessuno non ho proprio una più pallida idea di che siano ma mi metto sul pezzo allora all'inizio ho cominciato a mandare una marea di mail in giro le prime 200 mail ho preso una roba tipo 180 no o 170 il resto gente che mi ha ignorato e quindi ho fatto quello che nel film show shanker redemption le ali della libertà l'hai mai visto quello con morgan freeman vecchio film quando lui è in carcere manda le lettere per avere le sovvenzioni per la libreria e non gli rispondo le diceva bene allora adesso al posto di mandare una lettera la settimana ne mando due e quindi ho usato un po la stessa strategia con diciamo risultati alterni quello che è il mio suggerimento è questo numero uno è cercare di concentrarti sempre su il beneficio il vantaggio che ha l'altra persona l'errore che uno fa è che io magari non so mi ricordo ho contattato un ragazzo che si chiama Noah Kagan che è uno in gamba della Silicon Valley ma non è una superstar e lui mi ha rimbalzato brutalmente più di una volta e poi gli ho detto ma scusa ma com'è che non vieni ospite o degli altri ospiti forti e avremo i media partner eccetera eccetera lui giustamente mi ha detto yeah but what's in it for me e cosa c'è per me qual è il vantaggio per me quindi la prima domanda che ti devi fare qual è il vantaggio per l'ospite il vantaggio può essere di mille motivazioni non è solo economico può essere che magari fai che ne so delle interviste di ping pong e se uno è un appassionato di ping pong ti rilascia intervista magari è sensibile a un certo tipo di cause di beneficenza o magari è in uscita con un libro come in questo caso e ha interesse a parlare quindi trovare un aggancio dici tu un hook un aggancio un hook sempre di vantaggio e beneficio per lui l'errore è che tu fai una richiesta sempre a tuo vantaggio faccio un esempio uno molto difficile da intervistare per me è stato Tony Robbins ha messo sei mesi prima di convincere tutto il team il management Tony Robbins è praticamente un capo di stato ormai e praticamente è una cosa interessante l'esposto di qua mi porto in giro per la casa la cosa interessante è stata questa che lui ad un certo punto diciamo non erano molto interessati però era in uscita con un videocorso online e nel mio caso tutta la comunicazione è stata incentrata sul fatto che avremmo promosso il suo videocorso sulla mia community e avremmo quel video avremmo sottotitolato in italiano avremmo raggiunto la community italiana eccetera eccetera quindi nel momento in cui tu trovi un beneficio vantaggio è una cosa importante la seconda cosa da ricordare che le intro aiutano tantissimo ti faccio un esempio Seth Godin che probabilmente conosci uno dei grandi esperti di marketing al mondo io gli ho scritto credo per dieci anni e lui non mi ha mai risposto o meglio mi ha sempre risposto dicendo guarda sono impegnato e poi lanciavo un'altra iniziativa Seth ti interessa venire alla social media week no guarda sono impegnato qualche cosa niente in questa occasione ad un certo punto vedo che un libro di gar reynolds grande esperto di presentazioni aveva una intro di Seth Godin e siccome io conoscevo questo gar reynolds perché aveva parlato di alcune mie presentazioni sai che sono appassionato di presentazioni eventi dal vivo aveva fatto una recensione di una presentazione che avevo fatto a un evento allora gli scrivo dico senti gar non è che mi metti in contatto con Seth Godin non gli voglio rompere i coglioni vorrei solo rubargli 15 minuti di tempo e mi ricordo che nel giro di 30 secondi Seth Godin ha risposto dicendo se sei un amico di gar reynolds parliamo e poi di lì uno cerca di costruirsi il suo spazio però sempre il vantaggio che c'è per l'altro quindi tu dici trova un gancio un modo un qualcosa da offrire e in più poi se ti fai delle pr intorno è ancora meglio vero sì tutto ti ricordo il vantaggio di avere un'introduzione da una persona che tu conosci enorme pensa a tutti gli investitori se una startup va a chiedere del grano un investitore ci sono investitori che se non sei introdotto da qualcuno neanche ti considerano introdotto in italia è una parola che non suona bene perché sembra raccomandato invece l'introduction è una mail di introduzione da qualcuno che semplicemente conosco perché se no prendi il mio caso io sono sommerso diciamo fuori onda migliaia di richieste nel pre intervista sì non ho tempo cioè non sono in grado di valutare se una persona in gambo o meno ma se che ne so paolo barberis che conosco da tanti anni dada consigliere di renzi all'innovazione eccetera mi dice guana dai un occhio a questo che è una una startup che ti dico che è in gamba senz'altro è diverso rispetto a arrivare da zero per fare un esempio quindi l'introduzione è sempre veramente importante ok marco senti oggi 17 gennaio 2017 è uscito finalmente il tuo libro che tutti aspettavamo codice montemagno che in vendita su amazon e in libreria senti un po marco ma se io volessi regalare questo libro a chi non ti conosce no a che tipo di persona dovrei darlo cioè a chi glielo regalo sto libro a parte il suo amazon è andato sold out ne parlavamo prima pazzesco pazzesco e quindi vabbè però si trova in libreria o comunque in giro guarda premesso che non mi piace mai vendere un libro o vendere un progetto un prodotto in modo diretto penso che una persona se interessata alcuni temi ci arrivano inevitabilmente a trovare quello che gli interessa nella mia impostazione però il libro è una raccolta di quelli che sono un po i concetti principali che porta avanti nei video faccio da una netta e mezzo e il pubblico a cui si rivolge sono gli intraprendenti chi ha voglia di lanciare un progetto un'iniziativa e pensa che online ci siano degli strumenti che possano dargli una mano e supportarlo puoi avere 15 anni o 80 anni è la stessa cosa può essere che lavori sotto padrone o sei uno che lavora in proprio e fai che ne so l'avvocato per ora vorresti in realtà da sempre fare il tatuatore professionista ma non sai come come poterlo fare qualunque categoria e qualunque tipologia di persona che abbia questa pulsione nel lanciare un'iniziativa e pensa che probabilmente online c'è una qualche risposta può essere interessata al libro non perché io sia il profeta o quello che ti dà la risposta tutt'altro ma solo perché leggi magari la storia di un tizio che negli anni ha fatto una serie di progetti tuttora fa dei progetti ed è un po come sentire un amico che vive online e ti dice guarda queste sono delle cazzate da non fare e questi sono dei consigli che ti do poi valuta tu di tutto quello che è questa esperienza tirerai fuori quello che ti può servire di più quindi chi ha un'idea da realizzare il consiglio è leggete sto libro anzi ve lo consiglio io di leggere perché sicuramente sarà fighissimo marco senti abbiamo pochissimo tempo o se vuoi o se vuoi risparmiare o se vuoi risparmiare guardati i video online senti marco tu sei uno che ha investito moltissimo tempo e energie su facebook per raggiungere risultati con i video però un aspetto ugualmente importante che è molto sottovalutato l'aspetto economico che serve per far funzionare la macchina facebook ecco ci puoi dire quanto pesa il budget pubblicitario in rapporto alla qualità e la quantità dei contenuti e se puoi farci un esempio pratico in cifre di cosa può essere un investimento per arrivare a 300.000 fan anche spannometrico guarda allora la base è questa ci sono due correnti di pensiero sul tema della comunicazione sui social e su facebook in particolare da un lato c'è chi dice da tanti anni si dice content is king content is queen è la solita tirata sull'importanza del contenuto e per cui ci sono i teorici del contenuto che dicono guarda se tu fai degli ottimi contenuti il contenuto takes care of itself quindi il contenuto è quello che conta dall'altro lato ci sono quelli che pensano che se anche è un contenuto di merda però nel momento in cui lo spingi con un budget pubblicitario a quel punto i tuoi numeri li fai e a dimostrazione di questa teoria puoi pensare a una marea di siti internet che ci sono stati o di progetti anche di business di gente che ha fatto anche milioni che in sostanza ha investito grossi budget per comprare traffico con adwords con facebook advertising o quello che è per portarlo sul proprio sito e poi monetizzarlo per cui queste due correnti di pensiero principali la mia opinione è quella che devi avere degli ottimi contenuti e su facebook in particolare siccome è uno strumento a pagamento per il mondo del business è gratis se giochi ma se vuoi comunicare seriamente con una comunicazione sostenibile quindi che ogni giorno hai una garanzia di raggiungere una certa riccio una certa quantità di persone è chiaro che devi mettere del budget non puoi fare una senza l'altra quindi su facebook se tu pensi di mettere solo del budget pubblicitario e così cresci è irrilevante perché tanto acquisisci magari dei fan che tanto poi non sono attivi quindi stai perdendo dei soldi e dall'altro lato puoi creare degli ottimi contenuti virali e alcuni l'hanno fatto senza budget e sono diventati dei fenomeni prendi non so Federico Clapis ha fatto dei video e è diventato virale però è molto difficile per il business immaginati se tu sei un dentista o ti occupi di utensili o vendi sale marino cioè è un casino fare video virali ogni giorno per la tua attività per cui questa è la macro premessa a livello di budget dipende dipende dal momento storico perché da un lato tu devi mettere in considerazione che qualche migliaio di euro al mese lo devi spendere ed è un budget minimo in realtà se tu fai una comparazione rispetto a quello che ti servirebbe per fare promozione sulla carta promozione in televisione promozione in radio ma il problema è che per stabilire la cifra devi vedere in che momento storico ricavi in questo momento il costo di acquisizione è molto basso per cui tu per raggiungere 100 utenti spendi 10 domattina per raggiungere 100 utenti spendi 100 e quindi hai questo grosso problema che o ti muovi in questi 12 mesi più o meno questa è la finestra se no quando arriveranno tutti i grossi investitori che spostano i budget dalla carta dai media tradizionali sull'online e su facebook a quel punto il tuo costo di acquisizione sale e diventa un casino cioè diventa semplicemente più costoso certo ricordiamo che facebook funziona ad asta quindi più gente investe e più aumenta il prezzo dell'asta ovviamente come adwords come google per cui questo è un po' il mix è un mix che poi cambia ogni giorno per cui una volta che tu dici ok spendo 1000 euro al mese eh sì però poi nel periodo natalizio sono tutti che spendono di più e quindi tu hai un costo di acquisizione che sale e la tua riccia è molto minore poi la riccia organica e quella a pagamento si influenzano a vicenda quindi se hai anche se la tua riccia a pagamento nel mio caso la riccia organica fai conto che sia l'80% 90% quella a pagamento è un 10% ma quella quella campagna a pagamento che tu fai è uno strato che ti garantisce comunque una continuità nel tempo a prescindere dal fatto che magari un giorno imbrocchio un contenuto e un altro no perché poi fai facendo tanti contenuti a volte dei contenuti che non sono minimamente azzeccati interessanti a volte li cancello anche perché riguardo un video e dico questo fa veramente cagare e quindi è meglio toglierlo perché mi vergogno per cui ecco è una è un'alchimia è un'alchimia che però scopri soltanto facendola ogni giorno sporcando ti le mani Marco ti propongo una challenge però non a ping pong perché anche se so fare il temutissimo lancio quello così la battuta effetto non so se è valida no per gli imprenditori smart che ci seguono ecco se tu dovessi dare un consiglio sì di una cosa indispensabile da fare per 100 giorni che permetterà di ottenere risultati online che consiglio daresti da fare tutti i giorni per 100 giorni se vuoi comunicare senza altro video e questo è facile quindi ogni giorno carichi un video prendi il tuo cellulare in questo momento devo dire instagram stories sta andando fortissimo e per cui per dire instagram può essere il tuo terreno di battaglia o facebook come preferisci quindi dal punto di vista della comunicazione senza altro video video giornalieri anche brevi dove insegni, spieghi intrattieni, ti rendi utile, informi educhi i tuoi potenziali utenti dal punto di vista del business development quindi per acquisire clienti ogni giorno puoi andare su twitter su instagram, su facebook cercare quelli che sono dei potenziali clienti magari sei, che ne so, un parrucchiere e a questo punto cerchi di trovare nuovi clienti per coinvolgere per coinvolgere nuovi clienti puoi fare una ricerca partendo dagli hashtag che trovi su instagram o su twitter ad esempio facebook sono meno utili però anche su facebook puoi fare una ricerca e a quel punto ogni volta che trovi qualcuno di interessante ogni giorno mandi 15-20 richieste alle persone che trovi ai potenziali influencer sempre con quest'idea come per invitargli speaker cosa posso fare per te oggi che sia interessante se sei un parrucchiere contatti un influencer su instagram e dici bene mi piacerebbe offrirti 5 tagli gratis nei prossimi 3 mesi se ti interessa sono qui da giro un parrucchiere e via così e quindi cerchi di aggiungere il tuo valore prima gratis senza chiedere nulla a quelle che sono dei potenziali media di fatto che possono farti la cassa di risonanza ogni giorno ogni giorno ogni giorno via 15-20 richieste o quante più ne puoi fare a seconda di quello che sono i tuoi obiettivi e questo è un canale molto diretto poco sfruttato perché è noioso e ripetitivo però funziona ragazzi questo vale tanto quanto aver fatto un corso e quindi ricordatevelo ed ho fatto gratis Marco per voi ancora Marco senti abbiamo finito il tempo a disposizione era questo prima di salutarti però volevo dirti ieri ho fatto due chiacchiere con qualche tuo fan sono stati gentili e disponibili mi hanno aiutato con le domande e nello specifico volevo ringraziare Giovanni Germano Andrea Fabiana Marianna Roberta Michela e Giuseppe che volevano un saluto da te grande un saluto a tutti poi alla prima occasione ci vedremo la mia idea un po' sognatrice è sempre quella di fare un grande ritrovo in Italia però tra un po' prenderemo lo stadio di San Siro e faremo un ritrovo di tutti quanti grande un saluto a tutti ti ringrazio ciao Marco ti prometto che seguirò i tuoi consigli come lo seguiranno gli imprenditori grazie per essere stato con noi su Imprendo Academy ci vediamo alla prossima spero presto grande grazie alla prossima